Il motivo di manifestazione è che il nostro fratello che si chiama Musa è morto il mese passato e veramente siamo qua per quel motivo. E mette il documento che non è bloccato, un anno lui ha aspettato, lui è morto senza pubblico. Lui bisogna lavorare, non bisogna un casino, non bisogna un problema, bisogna lavorare, pagare bene, pagare noi i regolamenti. Ma loro non fanno quello, lui ha fatto il percento di meno stazione ma loro non cambiano niente, quindi dispiace che loro fanno quell'immigrazione. Non è solo l'Italia l'immigrazione, anche tutto il mondo ha immigrazione. E' perché l'italiano vuol fare quello, sempre manifestazione ma loro non hanno ascoltato. Quindi dispiace quello. L'importante è che loro danno documenti, per tutti. Anche la residenza che è loro, c'è dormire da fuori, loro ti danno casa a tutti per credere. Perché noi siamo lavoratori, noi non venire in casino, non venire a rubare una necosia. sono mattina, andiamo a lavorare, tornare. E' perché loro non aiutano anche da una casa? Perché? Anche quella frutta, sono italiano mangiare quello qua. E' perché loro non fanno così, sempre? Abbiamo organizzato questa maniversione, da sentire in piazza, da piangere, il nostro fratello Emussa, e anche il nostro fratello che dorme nel parco qui e senza casa. E poi, vogliamo dire un altro ancora, questo lavoratore che ci sono qui, loro fanno un lavoro pesante, tutto il giorno. Dattori di lavoro non ti rispettano loro. E se tu lavori un mese, dattori di lavoro ti insegnano 15 giorni, 12 giorni. Uno. Ancora è paga e basso. Questo non possiamo accettare. Casa per tutti. Lavoro per tutti. Contratto giusto per tutti. Schiavi mai. Schiavi mai. Schiavi mai. Schiavi mai. No allo esfruttamento. No allo esfruttamento. Basta allo esfruttamento. No 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 allo esfruttamento. Mi dispiace, mi dispiace tanto, perché con la morte è famiglia, c'è due bambini. Mi dispiace che la morte è così, senza motivo. E il mio documento ha bloccato da quest'ora di cui, un anno. E il dispiace quello a tutti. L'italiano deve capire quel mio problema, quel mio sito. Quando tu metti i documenti a quest'ora, venire un anno, sei mesi, senza motivo. Ce l'hai contratto, ce l'hai residenza, ce l'hai tutto. Ma loro bloccano i documenti senza motivo. E il dispiace quello.